Già lasciata la volata, subiare la roba, stanno accadendo, ed è Ermakov, Ermakov in prima posizione. Emanuele Cerri, presidente Proloco, abbraccia idealmente il vincitore di questa bellissima gara, ovviamente una gioia grande per il russo Roman Ermakov, da una battuta a caldo approfittiamo della tua conoscenza. Allora, intanto bellissima giornata, credo che sia soddisfatto, contento. È molto contento, è molto soddisfatto della gara che ha fatto, è stata molto impegnativa, alla fine però è andata bene. Sindaco, una giornata bellissima, tanto pubblico, un poio internazionale, bene così? Sì, al Via c'era il campione italiano e il campione austriaco, hanno vinto atleti altrettanto affermati. Noi ricordiamo che chi vince qui o si piazza, spesso e volentieri, ha un futuro prestigioso nel ciclismo. E quindi, una cornice di tantissima passione, il piacere di avere degli amici che hanno ottenuto grandissimi risultati. Visconti, tre campionati in linea, tanta roba. Rinaldo Nocentini, che qui è sempre di casa, che ha avuto anche la maglia gialla. Insomma, siamo molto molto felici e grazie soprattutto a chi lavora per organizzare un'iniziativa così prestigiosa. Finiamo con una bella manifestazione importantissima a livello nazionale come la ruota d'oro e diciamo è una bella soddisfazione. Poi, ovviamente, abbiamo il piacere anche di ospitare l'ospiti perché sono quelli che le scrivono le pagine del ciclismo. È stato bello per me tornare a vivere l'ambiente ciclistico, l'ambiente dei dilettanti e devo fare tanti complimenti all'organizzazione perché non è semplice in un mondo così difficile in questo momento, a livello giovanile, riuscire a organizzare un evento del genere in questo modo, così bene, con un parterre così importante. Davvero, tanti tanti complimenti. Quando mi dicono che il direttantismo sembra che possa sparire in Italia, poi vengo qui e vedo una situazione come questa e invece di buon auspicio. Davvero, tanti complimenti. Mi ha fatto tanto piacere tornare.